Anche nel Molise la notizia dell'aggressione della dottoressa di guardia medica ha provocato sdegno, preoccupazione nell'opinione pubblica e tra i medici che da tempo chiedono di poter svolgere il loro lavoro in sicurezza. Una collega molisa ha scritto una lettera aperta alla Presidente dell'Ordine dei Medici di Campobasso per ricordare le condizioni in cui le guardie mediche sono costrette a lavorare tra rischi per la propria incolumità fisica, degrado e carenze igieniche. Sappiamo tutti che il medico di continuità assistenziale rappresenta durante le ore notturne l'avamposto della sanità sul territorio, ha scritto Antonietta Anna Perrella, e che per natura del suo ruolo è predisposto ad accogliere e soddisfare per quello che gli compete le richieste di ogni cittadino in termini di bisogno di salute. La dottoressa ha ricordato come l'episodio di Catania riproponga con tutta la sua drammaticità la situazione di pericolo in cui spesso si trovano a lavorare le guardie mediche in sedi isolate, ha denunciato, talvolta sporche e indecorose, molto spesso prive di spioncino sulla porta. Quella porta ha aggiunto che viene aperta a fiducia e poi richiusa con altrettanta fiducia che si tratti di un paziente o di un malintenzionato. Anche da noi molise ci sono stati colleghi vittime di aggressioni durante il servizio che stavano svolgendo per il bene della collettività. La continuità assistenziale, ha concluso la dottoressa, deve essere necessariamente ripensata, riorganizzata sul territorio e presidiata. Un appello che è stato raccolto dalla Presidente dell'Ordine dei Medici di Campobasso, Carolina De Vincenzo, che condividendo lo sdegno e la preoccupazione dei colleghi ha precisato di aver chiesto un incontro alla Regione e all'ASREM sull'emergenza sicurezza. Già da tempo, in accordo con l'Ordine di Bari, abbiamo sposato queste ed altre cause, condividendone pubblicamente anche i messaggi mediatici, ha detto. Mettere in atto tutto ciò che è necessario per garantire l'incolumità dei medici molisani di guardia medica ha concluso e condizione essenziale e rinunciabile per la tutela dell'incolumità fisica e psichica degli operatori è mio obiettivo primario.